Salve a tutti, siamo sempre la serie la vita sotto la dittatura sanguinaria e vediamo un po' com'è. Qua, allora questo è un Zolopi di Abloca, qui vendono principalmente solo cosmetici, Cosmetici, un voici, un voici, un voici. Qui c'è Sianella, Gucci, Dior, Armani, Givenchy, Kili, Lancon, Qui fanno la coda alle casse, Tra l'ora chiudessero per via delle sanzioni, questo è Lancon, Chichéido, Claren, Claren, Caudalie, Vichy, Estelodeo, Cosa che manca? Moschino, Versace, Guerlain, Hermes, Lowe, Paco Rabanne, insomma qui stanno morendo proprio tutti di fame, però per i cosmetici se li comprano. Ok. E' brutta la vita sotto la dittatura nel terzo mondo, mi fanno pena poverasce, mi dispiace. Vabbè, Vabbè, me ne farò una ragione. Ce ne faremo una ragione. Ce ne faremo una ragione. Ok, dai, scherzavo. Adesso usciamo. Andiamo a casa. Ciao a tutti, buona serata. Ciao a tutti, buona serata.